Elon Musk ha fondato il suo primo progetto a 12 anni. Creò un gioco di nome Blastar, una sorta di Space Invader. Poi ha preso il codice esorgente del gioco e l'ha venduto ad una rivista per 500 dollari. La sua seconda invenzione è avvenuta a 24 anni. Lui e il fratello Kimball fondarono Zip2, una startup che forniva mappe digitali della città a giornali online. Dopo qualche anno, la società di computer Compaq acquistò la società Zip2 per 307 milioni di dollari e 34 milioni in stock option. Musk, avendo una quota più o meno del 7%, ci ricavò circa 22 milioni di dollari e decise di usarne circa 10 per avviare X.com. X.com era una sorta di banca online che presto, insieme a Confinity, diventò PayPal, uno dei sistemi di pagamenti online più usato al mondo. Nel 2002, eBay acquistò PayPal per un miliardo e mezzo di dollari. E finalmente Musk ottiene il capitale necessario per investire in Tesla e fondare SpaceX. Alla fine, da videogioco con navicelle spaziali ed una società che vuole andare nello spazio, il passo è breve. Al prossimo episodio